E ciao a tutti amici, sono il vostro caro De... Rovazzi, sono il vostro caro Rovazzi Sono Rovazzi per finire in tendenza su YouTube Italia Infatti siamo qui con l'Impossible Extra Mega Battle Flip Challenge Battle Flip Challenge Battle Flip Challenge Con diverse bottiglie E ragazzi, spolliciate immediatamente per finire in tendenza su YouTube Italia 100.000 like almeno, quindi taglia con i pollicioni in su Fatemi andare in tendenza, scrivete qua sotto nei commenti Tutto molto interessante Iniziamo con una cosa calma come Flippare la carta igienica E se non l'avete ancora fatto, spolliciate perché nessuno l'ha mai fatto Flippare la carta igienica Subito, al primo colpo Poi c'è Flippare una bottiglia normale Questa è difficile perché vedete Sotto ai pietini Dobbiamo fare tante rischide anche dal vendato Ready, aim, fire Questo perché sono rovazzi ragazzi E tutto questo È molto interessante Procediamo Con la terza bottiglia Forse un po' troppo piena Vediamo No, tre tentativi Se no penitenza Terzo tentativo Dobbiamo finire in tendenza Cazzo Penitenza Abbiamo fatto incazzare Violetta Si è incazzata Violetta Quindi siamo in tendenza Perché ho anche litigato con la mia ragazza Se arrabbiata tanto Come sì E siccome l'ho fatta incazzare Adesso ci riesco L'ultima Ragazzi Questo è un esperimento Guardate Mischiando l'olio col sapone Esce la schiuma E attenzione Appena farò roteare questa bottiglietta Succederà una cosa scientifica La bottiglia si piaccerà Solo se riuscirò A flipparla E guardate 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 L'esperimento scientifico Andiamo Grazie Grazie mamma Grazie Tiè È diventata Tre quarti schiuma Guardate La schiuma sta sopra La schiuma sta sotto La schiuma sta sopra La schiuma sta sotto Ah là ci sono le tendenze Eh no Guarda C'è Rovazzi C'è Clash Royale Le challenge Ma tu non ci sei Cazzo Niente ragazzi Ancora non siamo in tendenza Quindi Siamo qui Oltre che a far flipp Porca miseria Che feo Quindi Adesso La sfida si fa più interessante Per finire in tendenza Perché oltre a flippare La carta igienica Così Faremo dei trick assurdi Tipo così Che ho da bendato Ma non è finita qua Perché lo faremo Spacchettando su Clash Royale Pronti Per il primo trick Baule omaggio Ok Ora non ci interessa L'apide non ci interessa Oh La carta questa è leggendaria Perché non mi è riuscita Sono usciti i barbari E quindi non va bene Baule della corona da bendato Ci siamo Centomila like Ora troviamo la leggendaria Oh togacchio Sarteler Ok Ci siamo Ho 5 tentativi No No Che è uscito? Barbari E niente qua Come no? Che è uscito? Arcieri Ragazzi ho bisogno di voi Devo andare in tendenza Assolutamente No vero? No vero? E' l'ultima carta Potrebbe essere a leggendaria Non è a leggendaria Ma come no cazzo? Che è uscito? Estrattore dei resi Ma vaffanculo Va Tengo un altro trick estremo Ok si scioppa Baule epico Baule epico Per trick epici E allora facciamo una cosa di epica Cheletro gigante Cazzo Tornato Attenzione E' uscito il tornado Voglio il pecca No Vedi? E' perchè si uscite a mongolfiere Non va bene Non va bene Non va bene Non va bene Baule magico Arriva Arriva la leggendaria Quattro Barbari I barbari I barbari Che buono Arriva Arriva Guarda 3 2 1 Carta epica Carta epica Andiamo in tendenza Andiamo in tendenza Andiamo a vedere Ho fatto una cosa epica adesso? No ancora no Ma porca puttana Ancora non siamo in tendenza E allora signori Vedete questa carta igienica Trick pauroso Musica da tendenza per favore Adesso andiamo Spolliciate immediatamente se non l'avete fatto Perché adesso arriviamo in tendenza Scrivete tutto molto interessante nei commenti Perché abbiamo un baule leggendario da comprare Scintilla Scintilla Però già ce l'avevo A me manca la cimitero Un'offerta speciale Un baule leggendario A 10 euro Lo faccio per voi Adesso a noi ci rimane solo il cimitero da trovare L'ultima leggendario E abbiamo l'ultimo trick magico Far atterrare la bottiglia Dobbiamo andare in tendenza Deve essere il cimitero La prima Acquisto completato Cimitero Pagamento riuscito Eccolo 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 Ti prego esci Cimitero 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 L'ultima leggendaria Sì 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 Aspetta che ti mostro Il crack e me ne frego E siamo in tendenza 100.000 like Dei commenti Tutta volta interessante Sì è appassionamente Sì è in tendenza Ce l'abbiamo fatta Per rendere la cosa ancora più epica Fatta il flip Il bagno Questo è un trick Pericolosissimo Tieni Pericolosissimo Chiudi Chiudiamo la danza del gesso Perché è pericolosissimo Stai lontana Perché Potrebbe farti del male Ho detto che era pericoloso Te l'avevo detto che era pericoloso Iscrivetevi al canale Se non avete ancora fatto Questo è il canale della tendenza Il vostro caro text E rovazzi Vediamo questo secondo Il nuovo video Iscrivetevi al canale Se non avete ancora fatto Facebook Instagram In descrizione Grazie 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 Crazy YouTube Cosa? Ma copiato PewDiePie? Aspetta che ti mostro Il crack Che me ne frego Comunque a parte gli scherzi Arriverà una Lep bottle challenge Figa con violetta Preparatevi Spolliciate se la volete vedere Me ne vado così Vai trick Cazzo Sono una pippa Adesso Dopo aver fatto Questo trick Sono sicuro Di stare in tendenza Andiamo a controllare Che detto? Hai sentito bene Ha detto Andiamo a controllare Oddio non ce credo Non ce credo Che cazzo ho fatto Che cazzo ho fatto Mamma mia Non ce credo Porca troia Mamma mia Vabbè In caso vengono screen Vengala Vengala